La postazione del 118 di Montoro e Alvomano gestita dall'associazione di volontariato Croce Bianca Onlus di Montorio è un servizio che assiste all'interno entroterra Terramano, ma dal 1 maggio la postazione di emergenza sanitaria e territoriale non funzionerà più nell'arco delle 24 ore giornaliere, come previsto nella convenzione del 2010. Con la nuova convenzione, quindi l'ASRE di Terramo, ha ridotto a 12 ore giornaliere il funzionamento del servizio che dunque ora sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20 ed è per questo che le forze politiche di centrodestra e centrosinistra uniti in questa circostanza chiedono con questa petizione popolare di rivedere il piano di emergenza sanitaria e territoriale ripristinando urgentemente il servizio H24. Cerchiamo di indicare la specificità del territorio su cui opera il punto di pronto intervento della Croce Bianca di Montorio che è tutto l'entroterra Terramano. Se consideriamo che appunto per raggiungere i punti più lontani del comune di Crognaleto magari che attualmente è servito dal pronto intervento di Montorio da Terramo occorrerebbero almeno 20-25 minuti in più rispetto al normale riteniamo che questa cosa debba essere rivista e appunto per questo continuiamo su questa linea tutte le associazioni montorriesi e anche non solo quelle che svolgono attività di carattere sociale ma anche altre si stanno attivando affinché la raccolta firme che è stata proposta abbia il più grande successo. Diciamo anche al manager della ASL che noi contestiamo i dati che sono stati dati sul pronto intervento sito nel comune di Montorio Alvomano perché appunto è un'attività che riesce a dare parecchi servizi oltre a quello di pronto soccorso e pronto intervento anche quello di accompagnamento dei dializzati e quant'altro che potrebbe sì essere mantenuto ma che deve essere messo nel computo del servizio che viene ad essere dato alla cittadinanza perché su questi ovviamente la ASL non interviene con alcun contributo in merito. Grazie. Grazie.